In lacrime, da sola e sotto le coperte, al grande fratello Perla ha avuto il classico momento no. Momento che è arrivato dopo una giornata che è stata molto sottotono per lei. Già dopo la puntata di mercoledì si era detta stufa della nuova dinamica che la vede protagonista e da cui si dissocia completamente, ossia il famoso triangolo con Alessio e Anita. Ha anche attaccato non troppo velatamente gli autori, colpevoli a suo dire di esasperare situazioni già di per sé inesistenti. E così, nella serata di ieri, Perla è diventata ancora più cupa e silenziosa. Fino a quando si è rifugiata in piscina per ritagliarsi qualche minuto in solitudine, nascondendosi sotto le coperte e scoppiando anche a piangere. Qualcuno pensa che tutto derivi dal rapporto nato in casa con Alessio e la situazione che dovrà affrontare fuori con Mirko. Poi lei si è sfogata con Letizia. Mi sto solo sfogando un po', ha detto Perla con un filo di voce alla fotografa, che ha compreso subito le ragioni di questo suo malessere e cercato di confortare la coinquilina, comincia a fare un po' di ordine nella tua testa. Non sei indistruttibile, le ha detto spronandola a superare anche questo ennesimo momento complicato. Secondo Letizia in questi mesi ha dimostrato di essere tanto cambiata, la vede più lucida ed equilibrata ed è normale avere dei momenti di sconforto. E ora, a suo avviso, si trova a vivere delle emozioni contrastanti, sebbene abbia provato in tutti i modi a nasconderlo con i silenzi. È anche convinta che Perla debba scegliere per se stessa, senza condizionamenti esterni. Perché la vita è la tua, nemmeno di Mirko, ma la tua, ci ha tenuto a ribadire, invitandola ad ascoltare solamente il parere della famiglia mentre Perla ascoltava questi discorsi tra le lacrime? Ci saranno colpi di scena? A giudicare dai commenti dei fan potrebbe perché, come detto per molti, ha un nome questo malessere, Alessio.